Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Quante volte abbiamo parlato qui sul canale del crollo, alias del traumatico evento che pose fine all'età dell'oro, gettando l'umanità nell'abisso dell'età oscura. Ancora oggi però c'è difficile inquadrare per bene quei drammatici eventi, anche se Bungie, piano piano, sta gettando qualche spiraglio di luce qua e là. In particolare nel video di oggi voglio sottoporre alla vostra attenzione un paio di passaggi contenuti nel trionfo Il tuo amico Maika Abram, rilasciati con Oltre la luce. Questo trionfo potrebbe forse offrirci la conferma di una teoria stuzzicante che circola da parecchio tempo, ossia che l'oscurità manipolò o almeno influenzò le menti umane prima e durante il crollo. Partiamo dal contesto del trionfo Il tuo amico Maika Abram. La storia è alquanto semplice, o almeno lo è apparentemente. Maika è un bambino di circa 10 anni, che si trasferisce su Europa insieme ai suoi due genitori, che lui chiama Papi e Papà. Uno di loro lavora presso la Clovis Bray e, più nel dettaglio, è coinvolto nel progetto Exovita, cripta di Pietrafonda e Amenita Varie, temi che abbiamo già ampiamente affrontato nelle scorse settimane. Il nostro giovane Maika colleziona dei pinguini giocattolo, che altri non sono che i collezionabili sparsi su Europa, attraverso i quali, una volta raccolti, sblocchiamo appunto gli stralci narrativi del trionfo sopracitato. Tutti gli stralci sono scritti sotto forma di lettera, che il ragazzino dedica al suo eroe, al suo mito, al suo dio, il viaggiatore. Ebbene, a un certo punto il nostro Maika comincia a fare un sogno ricorrente, notte dopo notte. Si tratta di un sogno bizzarro, strano e un po' inquietante. È un sogno in cui lui è un Exo, che cammina su una superficie ghiacciata, che poi si scopre essere il pianeta Europa, sovrastato da un cielo nero e una luna bianca. Per qualche ragione comincio a saltare su e giù, ancora e ancora, sempre più in alto, e quando atterro il colpo è sempre più forte. Ho paura di rompere il ghiaccio, ma poi sento un sussurro. Dice, anche se succedesse, non mi farei niente, non ti lascerò morire prima della parte interessante. Mentre salto, il sussurro continua, più in alto, più in alto, o forse dice, più vicino, più vicino. Forse entrambe le cose. Ieri notte sono andato così in alto che sono quasi uscito dall'atmosfera. Da là riuscivo a vedere bene la luna. Eri tu, sospeso sopra io. Ho provato a volare verso di te, sfidando la gravità. Ma poi ho sentito una voce diversa che gridava, sei così egoista. Il sogno è indubbiamente bizzarro, soprattutto perché a farlo è un bambino. Certo, tutti noi facciamo sogni strani, ma questo è davvero sospetto. Maika sente sussurri, voci, vede un cielo oscuro, il viaggiatore vicino a io, località tutt'altro che casuale, e poi sente le parole, sei così egoista. Proprio nel momento in cui si protende verso il viaggiatore. Queste parole sono pronunciate da una misteriosa voce fuoricampo. Maika resta giustamente un po' abbasito dal sogno, ma la vicenda onirica non finisce così, ci mancherebbe. Il ragazzino sogna ancora. Ancora una volta si tratta di qualcosa di strano, e di parecchio inquietante. Come se qualcuno fosse entrato nella sua psiche. Due notti fa finalmente sono riuscito a vincere la gravità di Europa. Mentre fluttuavo verso di te, ecco il sussurro. Sei sicuro di sapere quello che credi di sapere? Mi sono svegliato appena prima di raggiungerti. Ieri non ho sognato niente. A quanto pare devo aver capito il messaggio, ma non riesco a levarmi dalla testa quelle parole. Sei sicuro di sapere quello che credi di sapere? Maika, che nel sogno vi ricordo è un exo, riesce a vincere la forza di gravità una volta per tutte, e quindi si avvicina più che mai al viaggiatore, quando però sente una frase che gli resta fortemente impressa nella mente. Sei sicuro di sapere quello che credi di sapere? Una frase semplice, ma dà il potenziale enorme, dato che insinua il dubbio. Il dubbio scava le certezze. Maika nutre una fede cieca nei confronti del viaggiatore. Una fede che la voce cerca di incrinare. E chi potrebbe essere questa voce che parla di egoismo e di una verità celata? Beh, ovviamente l'oscurità. Il vagliatore, sin da quando abbiamo potuto direttamente parlare con lui, ha sempre tentato di mettere in discussione ciò che pensiamo del viaggiatore e della sua benevolenza innata. Una benevolenza che sarebbe però solo un inganno, un'egoistica pretesa di essere protetto, mentre porta avanti il suo spietato gioco. Ad ogni modo, come finisce la vicenda del giovane Maika? A un certo punto lui e i papi devono lasciare Europa per tornare su Marte, altra località pesantemente colonizzata dalla Breitec, mentre papà rimarrà sulla luna gioviana a lavorare. Maika non ci sta, non è convinto. Non se ne vuole andare senza il suo papà? E quindi decide di indossare la tuta protettiva che ripara dal freddo per andare a recuperare il genitore dai laboratori della Clovis Bray, anche a costo di affrontare un esercito di Exo. Lui ha una paura folle degli Exo. La leggenda si conclude così. Maika sente il forte richiamo di portare con sé il genitore, ma siamo sicuri che senta solo quello? O forse questo richiamo verso i laboratori di Europa proviene da quella voce misteriosa che sentiva nei suoi sogni? Grazie a ciò che abbiamo appreso in ombre dal profondo e inoltre la luce, sappiamo benissimo che l'oscurità è in grado di esercitare un'influenza incredibile sulla mente umana, alterando il sonno, plasmando sogni e incubi fino a vere e proprie allucinazioni. Le vicende della spedizione K1 ne offrono una chiara testimonianza. E se Maika avesse subito l'influsso dell'oscurità vivendo su Europa? Del resto lì si trova una piramide, nonché la statua che aveva parlato con Clovis Bray, quella visibile nell'area chiamata Controllo Chiarezza, per capirci. Ebbene, forse il giovane Maika e altri abitanti d'Europa potrebbero essere stati influenzati dai sussurri dell'oscurità che, appunto, come dicevo prima, è da sempre determinata a screditare il viaggiatore, l'ingannatore per eccellenza, il falso dio, il fasullo benevolo che benevolo non è, a differenza dell'oscurità che è salvezza. E qui ci ricolleghiamo a una grande teoria, quella che riguarda il crollo. E se il crollo fosse stato causato anche da una gigantesca allucinazione di massa? Questa teoria nasce dai resti, diciamo così, del crollo, che possiamo vedere in varie location di Destiny, nel dettaglio su Venere e sulla Terra. Tra questi resti troviamo file di automobili, con a volte gli scheletri dei passeggeri, macerie arrugginite qua e là, ma quasi nulla di profondamente devastato da qualche cataclisma o guerra, insomma, o eventi traumatici affini. Certo, sappiamo che su Titano successe qualcosa di legato alla gravità, poco prima del crollo, un incidente, una deformazione, forse dovuta al passaggio di una piramide, ma oltre a questo fatto ci sono scarsissime testimonianze di eventi devastanti. Ada Uno, che è un exo che era viva all'epoca del crollo, racconta nei suoi diari di creature dall'odore di terra che ululano nella notte, ma che nessuno riesce a vedere, chiaramente creature che però riescono a uccidere delle persone. Il crollo è tutto fumoso, quasi contraddittorio in certi momenti. Forse fu sia un evento, diciamo, cataclismatico, fisico, ma forse l'oscurità influenzò anche la mente degli uomini, sottraendoli così alla stretta del viaggiatore. Resta anche un mistero chi abbia attaccato il viaggiatore durante il crollo. Un tempo era molto in voga la teoria che fosse stato Rasputin per impedirne la fuga, ma il protocollo che Rasputin avrebbe dovuto attivare per questa cosa pare non si sia realmente messo in azione. E se fosse stata l'umanità, invece, a attaccare, diciamo così, il viaggiatore? Quella serve davvero una grande svolta narrativa, un po' imprevedibile, ma sicuramente affascinante. Per ora, purtroppo, sul crollo ci restano più domande che certezze, e sarà così ancora per molto, molto tempo. Forse scopriremo qualcosa in più con Lightfall nel 2022, l'espansione Eclissi. Ad ogni modo, le vicende di Micah restano alquanto inquietanti, a mio avviso, come gran parte della Lordi oltre la luce del resto, un mood che ho davvero apprezzato, quindi ben fatto, Bungie, ci sta tutto. Micah sogna il viaggiatore, ma sogna anche io, sussurri, qualcuno che sembra screditare le sue convinzioni, ha questo richiamo verso i laboratori di Europa. È una vicenda che si intreccia appunto con questo filone narrativo di un'oscurità molto più coinvolta con la razza umana rispetto a quello che credevamo un tempo. Ribadisco, c'è ancora tanto da scoprire, Bungie può ancora costruire molto, e beh, sono parecchio curioso di vedere come si svilupperà appunto questo filone narrativo. Bene ragazzi, come al solito vi lascio con un paio di domande. Cosa ne pensate di questa Lorde dedicata al giovane Micah? E cosa pensate della teoria che il crollo sia stato dovuto anche o almeno in parte da una grande allucinazione di massa? Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, mi invito a lasciare un mi piace al video, se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che ho anche attivato la funzione abbonamenti per coloro che volessero supportare in massima libertà le mie creazioni. Vi consiglio di seguirmi anche sui social, basta cercare Lorenzo Divus tanto su Instagram quanto su Facebook. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!